Ciao a tutti amici miei, ben ritrovati in questo mio nuovo video. Allora, voglio parlare di Samp del mercato, ma prima faccio una premessa. Siccome il mio ultimo video e tutti gli ultimi giorni legati alla questione della Samp, Ferrero, Garrone, società... Allora, faccio una premessa. Io ho detto che non mi sta molto simpatico Ferrero, diciamo così per non dire altro. Però ho sempre riconosciuto comunque che nell'ambito societario, sia a livello sportivo, come ha detto Garrone, che sia a livello economico, è una società che comunque sta facendo bene. Detto questo, quindi io non ho nulla assolutamente contro la società o contro Ferrero, però mi piacerebbe avere comunque una società che magari si possa ambire anche qualcosa di più, visto che comunque, ai dati di fatto, Ferrero dispone di quello che purtroppo dispone. Allora, detto questo, ribadisco che comunque è una società che lavora bene perché siamo praticamente alla quasi ufficialità, e dico quasi perché comunque bisogna sempre aspettare le firme, però c'è un totale accordo fra la Samp e il Boca Junior, anche con il giocatore, stiamo parlando di Gonzalo Maroni, classe 99 e un trequartista. Devo dire che io sono sempre andato a curiosare quando venivano fatti alcuni nomi per vedere il tipo di giocatore, perché non disputandolo nel campionato italiano comunque si conosce di meno, qui parliamo addirittura di Sud America, quindi è un calcio comunque anche se conosciuto ma lontano da noi. Sono andato a spiare il tipo di giocatore che devo dire veramente che per quello che ho visto sono non entusiasto, di più, perché ha veramente un piedino d'oro questo ragazzo, per quello che ho visto, tanto è vero che comunque lo chiamano il Pibe, un motivo forse ci sarà perché lo chiamano il Pibe, tra l'altro i tifosi del Boca Junior, comunque stiamo parlando del Boca Junior, squadra una delle più importanti di tutto il Sud America, squadra appunto dove militava anche Maradona, quindi è tifa, praticamente questo ragazzo che tanto sta facendo bene, tanto è impressionato a tal punto da portargli questo soprannome e il Pibe, ha mandato in rivolta la sua cessione tutti i tifosi del Boca Junior, perché appunto è stato ceduto, ceduto alla Samp praticamente in prestito a un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro, ma se il giocatore è quello che comunque ho visto e mi ha impressionato tantissimo, se il giocatore è questo e riesce a imporsi così anche nel nostro campionato, ragazzi qui stiamo parlando di un giocatore che ha delle prospettive enormi, veramente enormi, quindi è sicuramente un giovane, quindi un classe 99 a 20 anni, ma è di grandissimo prospetto, andate anche voi se volete a vedere qualche gol, qualche suo skill che comunque è stato pubblicato, ne rimarrete sicuramente stupefatti anche voi, perché sicuramente si capisce che il ragazzo ha del gran talento, almeno quello io sono sempre andato a spiare, sempre, l'ho fatto con Schick, l'ho fatto con tutti quelli che comunque si conoscevano un po' di meno, e devo dire che lui veramente mi ha proprio molto molto impressionato, io spero possa essere così, perché sarebbe non solo un grande acquisto per la Samp, ma anche in prospettiva sarebbe una cosa veramente... sono state superate concorrenze, se parliamo ad esempio solo in Italia erano interessati Milan, Juve e Inter, sono state superate queste concorrenze, quindi bene bene bene. Detto questo, allora domani, che poi è venerdì, dovrebbe arrivare il giocatore, per comunque finire gli ultimi dettagli del contratto, e poi eventualmente verrà la firma. Detto questo, allora aspettiamo adesso sabato, che dovrebbe esserci la risposta definitiva per il nostro tecnico, il sostituto di Giampaolo ormai del Milan, quindi dovrebbe essere Di Francesco, si aspetta una sua risposta, e speriamo possa essere positiva, perché Di Francesco mi piace veramente tanto. Detto questo, non so cosa ne pensate voi, scrivetelo nei commenti, quindi commentate, condividete, iscrivetevi al canale, ciao a tutti!